Poi Ibrahimovic porta palla, si accentra, tocco in orizzontale per Thiago Silva quindi Boateng spostato a destra, una finta, una controfinta, tocco centrale Thiago Silva, gol, 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 Thiago, Thiago, mio Thiago, Thiago, mio Thiago Balchini ha segnato Thiago, Thiago Silva dopo l'area con un punt diagonale in bello, angolato ed è gol, Thiago Silva l'ha messa, Thiago Silva l'ha messa e andiamo Nocerino numero in area, tocco centrale, bello, colpo di tacco, ha saltato sulla linea di fondo l'avversario Nocerino ha messo al centro ma nessuno ha concluso, ancora, gol, gol, gol numero 100 gol numero 100, Balchini, 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 Balchini gol numero 100, gol numero 100 di Ibra, gol numero 100 di Ibra, datevi Balchini, vogliono il mondo e allora Balchini, grande Balchini, e allora, dov'è mio fratello Di Latte, Giovantino? Giovantino! Giovantino!